Bravo, bravo, lunedì, non ti preoccupare, ti compro un allenatore e un portiere, così allena il tuo calcio. Ma come si fa? Ma come si fa sbagliare un gol così? Ma proprio scarso sei! Devi giocare in seconda categoria, neanche in seconda categoria giochi, vai a lavorare, vai a lavorare! Ciao papà, ho saputo che hai fatto due gol, bravo! Sì papà, oggi ho giocato davvero bene. Adesso vado che devo portare la mia ragazza al Mac. Ma quale Mac? Oggi porti lei al ristorante con la carta di papà. Davvero papà? Grazie. Vado papà, vuoi che ti tolgo la carta? Perché cosa ho fatto? Allora cammina bene cazzo! Papà, vado a giocare a calcio con i miei amici, va bene? Va bene figlio, fai qualche gol. Ciao papà, posso andare a giocare con i miei amici? Cosa? Prima devi finire di studiare, devi pulire tutta casa e fare anche il giardino. Poi vai a giocare. Ho fatto papà! Eh mi dispiace, sta tornando il tuo fratello, devi prendere cura di lui assolutamente. E io devo uscire con la mamma. Ma vattena spang... Oggi, c'è? Grazie a tutti.